Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono iW2FND, Lucio, ed in questa videopillola vedremo come realizzare un kit di calibrazione SOL per connettore PL259 femmina per fare le misure con le nostre antenne. Quindi buona visione! Il modo più semplice per realizzare un kit SOL con connettore PL259 femmina è quello di acquistare un kit SOL SMA maschio da 50 ohm di basso costo, insomma spendete meno di 10 euro, che troverete sui vari siti di vendita online e tre adattatori SMA femmina to PL259 sempre femmina, dove inserire il kit SOL SMA maschio che abbiamo appena comprato. Nulla vieta però di utilizzare il kit SOL SMA fornito col proprio VNA, ma vi assicuro che è più comodo averne uno sempre pronto all'uso. Dato che i connettori PL259 sono utilizzati in VHF, in genere fino a 150 MHz, occorre conoscere il ritardo introdotto dall'adattatore quando è inserito in fondo la linea, onde evitare errori di misura col VNA. Allo scopo vi ricordo un mio video in merito, che vi lascio in descrizione, dove vi ho spiegato che l'errore ammesso è di un grado d'onda che a 150 MHz corrisponde in aria a 5,5 mm e in un cavo con isolamento in polietilene, che corrisponde ad un velocity factor di 0,66 è di 3,6 mm. Per cui capite bene che in VHF è opportuno informare il nostro VNA che abbiamo inserito un adattatore o in alternativa bisogna tenerne comunque conto. Quindi vedremo in qualche maniera di trovare il delay del nostro adattatore SMA femmina to PL259 femmina. Per fare ciò ci sono diversi metodi, ma l'unico praticabile è quello di misurarlo con il nostro VNA. Infatti, se fossimo a conoscenza del tipo di elettrico utilizzato, potremmo misurare col calibro le distanze, ma non conosciamo il materiale. Che bene che vada è POM, cioè poliossi metilene. Attenzione! Il POM fonde a 165 gradi, per cui non scaldatelo col saldatore a stagno, perché fareste un impasto. Inoltre, non conosciamo l'impedenza caratteristica del connettore, perché gli adattatori commerciali non sono 50 Ohm. Sì, sì, avete capito bene, non sono 50 Ohm. È molto più bassa, tra i 25 e i 35 Ohm, non di più. Infatti, se misuriamo col calibro il diametro del conduttore interno, troveremo che la misura è di 5,2 mm, mentre quello del conduttore esterno, qui, è di 12,2 mm. Se andiamo sul sito della Pasternak e cerchiamo Coaxial Cable Impedance Calculator, vi lascio il link in descrizione, potremo calcolare l'impedenza caratteristica del connettore, ipotizzando che la costante di elettrica sia quella del POM, cioè 3,8. Ora, se mettiamo il diametro del conduttore esterno, che abbiamo detto, 12,2 mm e il diametro del conduttore interno 5,2 mm, mettiamo qui di elettrico. È 26,2 Ohm e non 50 Ohm. Se invece il dielettrico fosse l'aria, l'epsilon con R sarebbe 1 e, in questo caso, l'impedenza caratteristica, vedete, diventerebbe 5,1 Ohm. Per cui, dato che il nostro connettore non ha l'aria come dielettrico, ma ha una plastica bianca di cui non conosciamo nulla, l'impedenza caratteristica sicuramente non è 50 Ohm. Ho calibrato il mio nano VNA col kit SOL tra 1 MHz e 200 MHz. Ora, dato che il mio nano VNA ha dei connettori di tipo N, sono costretto ad inserire un adattatore N maschio a SMA maschio di buona qualità. Il mio è un Rosenberger e, purtroppo, devo necessariamente trovare il delay di questo adattatore. Per fare ciò utilizzo uno short femmina del kit di calibrazione, sempre della Rosenberger, del quale io conosco il delay e lo inserisco nella porta SMA maschio. ovviamente il coefficiente di riflessione non sarà più zero perché ho aggiunto l'adattatore e lo short. Ora modifichiamo la scala portandola a praticamente 100 gradi per quadretto, quindi scale division 100 gradi per quadretto. E aggiungiamo del delay in modo da ottenere un angolo di 180 gradi perché il corto si trova tutto a sinistra sulla carta di Smith e l'angolo quindi oscillerà tra i più 180 e i meno 180. Quando oscillerà lì in mezzo noi sappiamo con precisione che avremo aggiunto un sufficiente delay. Ma perché metto uno short e non un open? Perché come vi dicevo in un altro video che vi lascio qui sotto in descrizione, un connettore aperto non è in realtà un aperto. Infatti in corrispondenza dell'aperto il campo elettrico si incurva nell'aria dando origine ad una piccola corrente di spostamento. In pratica si ha propagazione. Il fenomeno è conosciuto ed elettricamente si modella con un condensatore in parallelo alla linea. Ma adesso vediamo di trovare il delay di questo insieme. Electrical delay aggiungiamo per esempio 50 picosecondi. 50 picosecondi siamo andati a 167. Facciamo 200 picosecondi. Facciamo 300 picosecondi. Ecco che siamo andati troppo oltre. Quindi facciamo 250 picosecondi. Siamo ancora molto oltre. Facciamo 230 picosecondi. picosecondi. Ecco qua che siamo arrivati. Vedete? 179,88 e poi oscilla lì attorno. Quindi io direi che il delay picosecondo più picosecondo meno è 230 picosecondi. Ora andiamo a vedere la scheda tecnica dove troviamo che il nostro short è praticamente one way 27 picosecondi. Quindi 54 picosecondi two way. Per trovare il delay complessivo dobbiamo togliere dai 230 picosecondi appena trovati i 54 picosecondi del nostro short. Il risultato è 176 picosecondi. Ora togliamo lo short e infiliamo il nostro adattatore SMA femmina tu PL259 femmina e rifacciamo l'operazione. Come vi dicevo prima il corto è privo di propagazioni. Infatti lo short è più semplice da realizzare perché subisce solo una piccola influenza induttiva che nel nostro caso è del tutto trascurabile. Qui vedete il mio short autocostruito con un PL259 maschio a crimpare per cavo RG58 dove ho sostituito la plastica con un dischetto di rame ed ho saldato il tutto in modo che il piano di riferimento convenzionale del PL259 femmina vada a battuta sul dischetto di rame. Se non avete un dischetto di rame potete usare una moneta da un centesimo di euro in cui riducete il diametro finché non si infila qua dentro. Uno short così fatto ha un'induttanza dispersa piccolissima e un delay praticamente nullo. Quindi inseriamo nel nostro adattatore SMA femmina PL259 femmina lo short autocostruito e ritroviamo il delay del VNA finché la traccia della fase del coefficiente di riflessione come prima non sarà sui 180 gradi. Come prima aggiungiamo delay di 100 in 100 poi di 50 in 50 poi di 10 in 10 e via così. Allora aggiungiamo al delay che era 230 altri 100 quindi facciamo 330 picosecondi. Ecco con 330 picosecondi siamo andati a 178 gradi. 330 non è abbastanza facciamo 350 picosecondi ecco che 350 picosecondi cominciano già a far oscillare la la fase in questa posizione. Vediamo di aggiungerne degli altri e facciamo 360 picosecondi ecco che sono troppi. 355 picosecondi sono un po' oltre ancora facciamo 354 picosecondi e vedete che si mette ad oscillare abbastanza violentamente. Quindi io direi che picosecondo più picosecondo meno 354 picosecondi è il ritardo di questo insieme. Rimettiamo mano alla calcolatrice e vediamo di togliere dal delay complessivo di 354 picosecondi il delay che avevamo misurato prima del solo adattatore n sma che era di 176 picosecondi. La differenza fa 178 picosecondi. Il nostro adattatore sma femmina tu pl 259 femmina sarà di 178 picosecondi. Una volta avvitato il kit sol che abbiamo comprato per pochi euro sugli adattatori abbiamo praticamente terminato il kit a cui possiamo aggiungere un barilotto pl 259 maschio per completare il kit col suo thru. Quindi si può acquistare e conservarlo in una scatoletta per decoupage in legno 7 cm x 7 cm oppure se avete le macchine utensili adatte potete inserirlo in un blocchetto di alluminio come questo che è molto molto pratico. Anche questo video finisce qui. Se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella così non vi perderete i prossimi video. A presto, ciao! 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 Ciao!